Allora, oggi abbiamo ripassato il vocabolario per la casa, sì, i compiti, 18, 17 e 19. Allora, compiti per martedì e fate gli esercizi. Capito? Sì. Allora, ok. Dunque, studiate gli esercizi, ma fate gli esercizi. Sì, martedì c'è un esame. Allora, dunque, sì, esame, è molto importante l'esame. Gli esamini qui sono molti, molto importanti. Allora, studiate. Capite? Allora, fate gli esercizi sulla pagina 50 nel libro. Allora, dunque, sì, esame, è molto importante l'esame. Gli esamini qui sono molti, molto importanti. Allora, studiate. Capite? Allora, non dimenticare fare i compiti, sì, per martedì, è l'esame per martedì anche. Ciao, a dopo, a dopo. Ciao, a dopo. Ciao. Ciao, a dopo. Be safe, ok? Ok Don't go anywhere alone Mom Watch your drink It's gonna be fine Bye I love you Mom I love you too Don't wait up Mom Mom Only the best for you I mean it's not the infamous punch I mean I do got something brewing in a plump No Shots? Shots 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 Sì! 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 Sì, sì! No, no! È un momento! È un momento! Sì! Sì! Ok. 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 I'm going to kill you! 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 Deb? Emily? What is going on with you? I'm going to kill you! There you go. Hey, we gotta go. We're going to be late. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I can't give you a chance. Hey, I'm ready. I'm going to kill you. Oh my god. I'm ready. Oh my god. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you! You too? We're really getting a good one. Emily? Emily? Why are you home from school? Sweeney, please. We are loved, but many are loved. So, let me now see you. To you the next day, Today, we are at work with the team We keep taking care of the team and our family. We keep taking care of this team. Grazie a tutti. Grazie a tutti.